Cuori, il riassunto della prima puntata. Stasera è andata in onda la prima puntata della fiction Rai Cuori. Torino, 1967. Il professor Cesare Corvara riunisce un'equip medica perché ha come progetto quello di effettuare il primo trapianto di cuore all'ospedale Molinet di Torino. Per fare questa impresa chiama la dottoressa Adelia Brunello. È una cardiologa italiana con l'orecchio assoluto che ha lavorato a Houston. Ha lavorato anche al brevetto del primo cuore artificiale che ha rivoluzionato la cardiochirurgia. La dottoressa, oltre a essere un ottimo medico, è anche la moglie di Corvara. Si sono sposati da appena un mese. All'ospedale nessuno lo sapeva, neanche Alberto Ferraris, il braccio destro di Cesare. Corvara non lo sa, ma Alberto Ferraris è stato anche l'ex fidanzato di Delia sei anni prima. I due si stavano per sposare, ma poi lui l'ha tradita e quindi lei lo ha lasciato. O almeno così sembra, ma c'è anche qualcosa di misterioso che avvolge questa storia. Alberto ha nascosto qualcosa sei anni prima alla sua ex e la sorella si sente responsabile che il medico e la Brunello si siano lasciati. Ancora non è chiaro però cosa ci sia sotto. Appena arrivata in aeroporto, Delia si fa subito valere. Capisce che c'è un uomo che ha gravi problemi di cuore e lo convince ad andare in ospedale, dove viene operato da suo marito e gli viene salvata la vita. Cesare ha anche una figlia di vent'anni, Virginia, che lo fa impazzire. La ragazza studia medicina, probabilmente per volere del padre, ma da sei mesi non si presenta alle lezioni universitarie. Per questo il rettore le vuole parlare per fare un favore a suo padre, ma lei, che è in guerra con il padre, si fa trovare insieme ad un suo collega, mentre consumano un rapporto sulla scrivania del rettore. Virginia viene sospesa dall'università e a quel punto Corvara la costringe a fare tirocinio il reparto, la fianca a Delia. A fine puntata, Delia parla con Alberto e gli dice che anche se è stata lei a mettere le distanze tra i due, ormai è tempo di smetterla. Devono collaborare insieme. Lui però la basa, lei gli dà uno schiaffo e gli dice che se non dirà niente a suo marito è solo perché lui è un grande uomo, a differenza sua, e non vuole che pensi male di Alberto. La Brunello è disperata, la sua mente va indietro nel tempo al 1961, quando bussò a casa dell'ormai ex fidanzato e lo trovò con un'altra donna.